I carabinieri della compagnia di Urbino hanno eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cadelare in carcere nei confronti di una donna di origine esteroopea di 24 anni facente parte di un sodalizio criminale dedito alle rapine ad anziani di orologi di valore. Le indagini sono iniziate a luglio scorso, quando un anziano, 63enne, si è presentato presso una nostra stazione ai carabinieri denunciando di aver subito una rapina. Quest'ultimo infatti era stato avvicinato da due donne che, dopo avergli fatto degli avanzi, erano riuscite a distrarlo, bloccarlo e malmenarlo violentemente. Una volta caduto a terra, all'uomo erano stati sottratti 1.500 euro in contanti appena prelevati e un Rolex d'oro che teneva al proprio polso. L'analisi delle denunce ricevute anche da altre repartite dell'arma, le individuazioni fotografiche, lo sviluppo dei tabulati telefonici hanno permesso di individuare le autovetture a noleggio, appositamente prese a noleggio dalle donne per sviare le indagini, i percorsi effettuati, le strutture ricettive in cui trovavano base logistica e anche identificare altri componenti della batteria. L'operazione che ha permesso di interrompere l'attività criminale della cosiddetta banda dei Rolex rientra nel quadro delle attività di contrasto ai reati predatori.